Ciao, ho appena letto un articolo sul concorso di Miss Italia. Mi ha sorpresa il fatto che una delle ragazze avesse una taglia superiore alla 38 o 40. Questa è una cosa bellissima. Sfortunatamente mi ha tanto rattristata il fatto che questa ragazza sia stata insultata da internet trolls e da altre modelle che la definiscono troppo grassa. Dobbiamo smettere di considerare belle solo quelle ragazze che sono magrissime. Le modelle dovrebbero avere taglie di tutti i tipi. Un cambiamento del genere aiuterebbe ad evitare i disturbi alimentari tra le adolescenti come la bulimia e l'anoressia. Dunque, grazie a Paolo Torrente per aver trovato il coraggio di rappresentare la maggioranza delle donne che sono ignorata dalla moda. Paolo è bellissima sul pacco e i troll e le persone maleducate o invidiose non mi faranno mai cambiare l'idea.